Buonasera a tutti e tutte, dopo un po' di attesa finalmente iniziamo quest'ultimo dibattito, direi chiudiamo in bellezza perché ho qua alla mia destra Leonardo Bianchi di Vice, autore di diversi libri, noi questa sera ci concentreremo sul suo ultimo libro, complotti da qui e non alla pandemia, cronache dal mondo capovolto e direi che questo dibattito per chi ha avuto modo di seguire tutte le interessanti discussioni che abbiamo avuto in questi due giorni molto intensi qua al centro sociale Pedro, racchiude una serie di questioni che poi abbiamo affrontato sotto varie forme e sfaccettature. Io entro subito nel vivo della discussione per non rubare spazio poi al dibattito che vorrei si sviluppasse anche e alle domande che potete fare a Leonardo. Parto con una questione, Leonardo inizia il suo libro con un prologo, il prologo parla del famoso 6 gennaio del, famoso, nefasto, possiamo usare i termini che vogliamo, 6 gennaio del 2021 quindi l'assalto a Capitol Hill, l'assedio al congresso che cito una frase che è citata nel prologo, quella del corrispondente capo del New York Times Peter Baker è stata allo stesso tempo inimmaginabile e prevedibile al 100%, sappiamo che la questione di Capitol Hill si inserisce all'interno di un contesto specifico anche sui social media che faceva riferimento al furto elettorale, ricordiamo il comizio di Trump che di fatto ha incitato questi manifestanti e tutto ovviamente si svolgeva, poi ci sono cose più complesse però la questione era l'hashtag lanciato ancora nel 2016 quindi dopo la prima elezione, la prima e unica fortunatamente vittoria elettorale di Trump, l'hashtag era stop the steal quindi ferma il furto e attorno a questo fenomeno, a questo hashtag, a questa lettura si coagulano oltre alle vecchie forze conservatrici del panorama americano quello che Leonardo ha definito l'ecosistema social mediatico parallelo dell'estrema destra statunitense che ha alcune caratteristiche molto peculiari, ad esempio recupera alcune simbologie del passato, quello della forca ricordate anche la forca a Capitol Hill e anche in altre manifestazioni, quindi si rimanda alla seconda guerra civile americana, alla purga cruenta dei nemici interni che corrompono la nazione, sto citando dei pezzi che poi sono scritti nel libro, addirittura alla guerra razziale, poi tutto questo si è trasferito anche nella memetica, ad esempio il Bugalù vedremo un po' nella discussione che farà Leonardo, bene quindi la mia prima domanda è questa, come tu alla questione dedichi il prologo ma poi dedichi un capitolo vero e proprio quindi entriamo un po' nella discussione, come tu sei entrato nel libro? Sì, beh innanzitutto buonasera a tutte e tutti e grazie dell'invito, dunque io sono partito dal dal 6 gennaio perché questo libro nasce, cioè in realtà è nato praticamente subito dopo il 6 gennaio perché io avevo già iniziato a scrivere, cioè avevo aperto una newsletter che appunto che si chiama Complotti come il libro, l'avevo aperta nel dicembre 2020 perché già insomma pensavo che ritenevo che appunto le periodi del complotto specialmente con la pandemia avessero, stessero vivendo una sorta di rinascimento comunque avessero una rilevanza pubblica e politica che non avevano da tanto tempo e poi dopo, subito dopo il 6 gennaio appunto ci siamo sentiti con Minimum Fox, la casa editrice, abbiamo detto vabbè adesso dobbiamo fare un libro su questa cosa perché il 6 gennaio del 2021 è stato un evento politico appunto sconvolgente e sconvolgente da un lato ma prevedibile dall'altro perché era già stato scritto sostanzialmente ma non solo da Trump e del suo accogliti poi ci torneremo ma era proprio stato cioè la sceneggiatura era già stata scritta in tutti appunto nel quello che ci hai dato tu cioè l'ecosistema mediatico parallelo dell'estrema destra americana e della di varie comunità complottiste statunitensi da QAnon in giù e quindi quello è stato proprio un evento alimentato in primo luogo da tutta una valanga di teorie del complotto che partono dal basso cioè da diciamo da QAnon all'ecosistema social mediatico parallelo, parler, c'era anche un forum che si chiama thedonald.win che era nato dopo il ban su reddit di un subreddit che si chiama thedonald che è praticamente una, mi pare che l'autodefinizione fosse una celebrazione infinita del 45esimo presidente degli Stati Uniti e tra l'altro su thedonald c'era proprio una discussione su, ho citato la forca giusto, la forca, è un'idea nata su thedonald.win in cui si dicevano sentite io voglio portare, voglio costruire una ghigliottina, una forca, cioè un patibolo da portare davanti al capitol che legno devo prendere e sotto rispondevano prendi questo tipo di legno che è per resistente eccetera, come si fa il nodo scorsoio, quanto costa eccetera, alla fine poi si è materializzata davvero. E poi proprio in generale l'assedio a Capitolile è stata da un lato il tentativo, chiarissimo tentativo da parte di Trump e dei suoi accolliti di fare quello che una politologa ha definito un autogolpe, cioè praticamente di bloccare la sconfitta, la chiarissima sconfitta elettorale e mantenere il potere, quindi un chiarissimo colpo di mano autocratico. E dall'altro è stato il tentativo da parte di, diciamo, dei seguaci di Kenon, tutti ci ricorderemo appunto dello sciamano di Kenon, Jacob Chainsley, da cui appunto parte il libro, di diciamo memare delle cose che esistevano solo su internet nella realtà e a farlo al più alto livello possibile, cioè all'interno del congresso americano. Poi paradossalmente arriviamo ad un altro paradosso, cioè un evento appunto che è stato dominato e alimentato in primo della teoria del complotto è diventato esso stesso una teoria del complotto e l'ha fatto praticamente in presa diretta, cioè già durante l'assedio dai, diciamo, dai conduttori radiofonici di estrema destra in giù, quell'assedio è diventato una cosiddetta false flag, cioè una cosa, un'operazione sotto falsa bandiera per incolpare i sostenitori di Trump. Cioè letteralmente, mentre migliaia di persone stavano assaltando il congresso e appunto sfondando gli esigui dall'alto cordone di polizia e stava occupando l'aula del senato e cercava di occupare quella della camera, diversi conduttori o comunque anche sui social si è detto che quelli non erano sostenitori di Trump, ma erano antifascisti mascherati da sostenitori di Trump o addirittura attivisti di Black Lives Matter. E questo in presa diretta. Poi la cosa, detta così, è una cosa che può far ridere, è ovvio che è una stronzata, cioè chiaramente quelli erano tutti dei fanatici sostenitori di Trump, era pieno di neonazisti e se beccavano un politico qualunque l'avrebbero fatto fuori, cioè questo era quello che poteva succedere e è parzialmente successo. E ovviamente non è così, ma la cosa assurda, paradossale, però anche molto emblematica dei tempi in cui viviamo è che la sera stessa, cioè quando la Camera ha ripreso il processo di certificazione del voto che dava la vittoria a Joe Biden, un deputato repubblicano, Matt Gaetz, che è vicinissimo a Trump, ha ripetuto questa balla proprio nell'aula violata e da lì in poi, se facciamo un flash forward ad adesso, cioè un anno dopo, quella narrazione lì è la narrazione ufficiale di una parte del Partito Democratico, che dice che il 6 gennaio non è successo assolutamente niente e al massimo un altro deputato trampiano l'ha definita una normale gita turistica e da un lato. Dall'altro dicono che comunque se è successo qualcosa non è nulla di che, perché tanto al massimo c'era qualche infiltrato dell'FBI che ha sobbillato delle persone, dei patrioti che erano lì per difendere appunto la libertà e la cosa, quindi ho iniziato da lì proprio per questa dimensione, questa doppia dimensione che ha il complottismo specialmente nei tempi della contemporaneità, cioè da un lato è un movimento che proviene dal basso, comunque una cosa che nasce al di fuori dei circuiti più o meno tradizionali, più o meno ufficiali della politica e dei media e dall'altro è uno strumento e un'arma di propaganda che usa il potere stesso, vuoi per fini politici e anche geopolitici interni, fini politici interni e anche geopolitici, poi magari se parleremo di te del complotto sulla pandemia e proprio anche usate per minimizzare la responsabilità politica e anche personale di fronte a eventi così sconvolgenti ma prevedibili perché erano stati scritti e sognati anche come il 6 gennaio, quindi sono molto più complesse, le teorie del complotto sono molto più complesse e sfaccettate di quello che si dice nella vulgata corrente, ecco che sarebbero una cosa di pochi mattoidi con il cappello di stagnole in testa che vivono nello scantinato insieme ai genitori, ecco è uno stereotipo che non ha alcuna aderenza con la realtà e non è così anche per un semplice motivo, uno su tutti è che per quattro anni abbiamo avuto un Presidente degli Stati Uniti che era chiaramente cospirazionista, anzi la sua stessa carriera politica nasce o comunque si consolida con una teoria del complotto che è quella della teoria del complotto razzista sul fatto che Obama non era un cittadino americano. Hai ovviamente anticipato uno dei temi cardine della discussione di questa serata, delle domande che ti farò, però prima vorrei fare anche un po' un accenno storico perché tu parli nell'introduzione molto delle teorie del complotto, di come si sono forgiate, però c'è una data importante negli Stati Uniti che è quella del primo aprile del 1967 quando per la prima volta viene criticato, quando viene spedito il cablogramma numero 1035-960 quindi si critica il rapporto Warren sulla morte di John Fitzgerald Kennedy. Da qua ovviamente nasce un rapporto tra teoria del complotto e sistema politico e politica statunitense, se vorrei che brevemente ci accennassi un po' a come è riuscita la teoria del complotto a modificare anche gli equilibri del potere in quel sistema che è sempre stato molto contraddittorio. Allora il cablogramma di cui parli tu è appunto era, aveva mandato la CIA alle varie stazioni in giro per il mondo e sostanzialmente era una specie di manuale d'uso interno per diciamo attaccare chi esprimeva dubbi sulla versione ufficiale dell'omicidio Kennedy e lì si usava il termine complottisti e teoria del complotto. Poi la cosa interessante di quel cablogramma è che è l'origine di una teoria del complotto sul termine teoria del complotto cioè sostanzialmente questa teoria sostiene che prima di quel cablogramma non si fosse mai usato il termine teoria del complotto ma che fosse stata un'invenzione della CIA per screditare i nemici politici che ovviamente non è così perché insomma già nella lingua inglese ma anche in altre lingue il termine teoria del complotto esisteva già dalla fine dell'ottocento. Quello che è interessante di quel cablogramma è che intanto la prima volta che è stato pubblicato è nel 1977 cioè dieci anni dopo attraverso il FOIA che è la legge con cui si può chiedere l'accesso a determinati atti pubblici ma è stato tirato fuori cioè è una teoria contemporanea cioè una teoria moderna nel senso non è nata né nel 67 né quando è stato fatto il cablogramma né quando è uscito per la prima volta ma è nata dalla fine degli anni 80 anzi inizio degli anni 90 e questo è sintomatico di una di una cosa cioè delle di come è cambiata la percezione intorno alla storica proprio intorno alla teoria del complotto perché quando quando è riuscito nel cablogramma il funzionario usava il contenuto del complotto senza dove specificare cosa fossero cioè contrariamente a quello che dice la teoria non è vero che è nato da lì ma era già una cosa che era assodata nel dibattito pubblico americano e si rifaceva soprattutto al maccartismo cioè già dal maccartismo e dagli anni 50 tutte le teorie del complotto anticomuniste era già di uso corrente ma appunto questa teoria sintomatica del fatto di come cambiata la percezione intorno al complottismo perché diciamo che secondo il professore michael butter che cito nel libro il complottismo ha tre fasi storiche diciamo così la prima arriva fino alla seconda guerra mondiale ed è una fase di totale più o meno totale accettazione del complottismo della vita politica e sociale delle società occidentali e non nel senso che molto spesso la versione ufficiale proprio comunque la versione accreditata coincideva con il complotto ci sono anche casi che ritenuti insospettabili di complottisti al potere tipo churchill churchill aveva prodotto un testo violentissimo antisemita che rilanciava tutte le teorie del complotto sull'ebreo internazionale riciclava i protocolli di esami di sion e questo è un esempio tra i tanti poi anche vari presidenti americani erano insomma adesso li chiameremmo complottisti ecco all'epoca no perché era diciamo che coincideva con la scienza dell'epoca poi le cose sono cambiate naturalmente dopo la seconda guerra mondiale e dopo anche il lavoro di filosofi come carl popper e altri che hanno appunto da un lato appunto le scienze sociali hanno screditato il complottismo dall'altro lato dall'altro lato chiaramente lo shock e l'orrore dell'olocausto causato anche anche da le teorie del complotto antisemite nei protocolli di sion l'hanno resi l'hanno diciamo espulse dal dibattito pubblico cioè non erano più accettabili le teorie del complotto non si poteva più usare non erano più un'arma spendibile a livello politico poi le cose sono cambiate di nuovo ancora una volta diciamo al cavallo degli anni 90 e 2000 per diciamo anche qui per vari motivi ma uno dei principali sono appunto l'avvento di internet e l'ascesa di movimenti di partiti e movimenti della destra radicale populista che ha diciamo fatto rientrare dalla finestra teorie del complotto nuove e vecchie allo stesso tempo e quindi adesso siamo in una diciamo così in una fase di coabitazione in cui le teorie del complotto sono sia rigettate da una parte dell'opulazione e però da un'altra parte sono ritenute assolutamente legittime e l'abbiamo visto molto bene anche durante durante questi due anni di pandemia insomma tutte le divisioni che hanno creato nella società e anche nel proprio anche nella risposta è una gestione stessa della pandemia questo è solo un esempio tra i tanti chiaramente ma diciamo la cosa che secondo me è più 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 rilevante da fare da sottolineare che c'è stato è sempre più accelerato il processo nel senso che fino a una teoria del complotto può raggiungere una massa critica in brevissimo tempo e proprio incidere sulla realtà altrettanto rapidamente e il caso secondo me principe e principale di questo assunto è l'ascesa di qui e non e non so se anticipato la domanda no no poi ne parleremo di tutte queste questioni ne parleremo comunque no io a me piacerebbe entrare un po in uno dei temi centrali del tuo libro che è la pandemia e c'è il primo capitolo tu l'hai intitolato plan de mia che poi tra l'altro è il titolo di un mini documentario e poi magari ci spiegherai e che è stata un incredibile come già dicevi laboratorio complottista ricordiamo che poi sono tutte cose che citi ma che hanno fatto parte del dibattito del dibattito pubblico e politico la questione del virus creato in laboratorio c'è ad esempio un tema che a mio avviso tratti che è molto interessante secondo il mio punto di vista è quello del grande reset che è un po una visione da destra dell'idea del capitalismo dei disastri di Naomi Klein questo secondo me è un passaggio che vorrei che su cui ci soffermassimo ovviamente poi c'è tutto il tema vaccinale e c'è una cosa che a mio avviso tu approfondisci bene quando parli di una zona d'ombra ossia l'idea che il virus sia il prodotto di fattori umani è un'idea socialmente accettata anzi è un'idea che sta nel discorso complottista c'è però magari una differenza rispetto ai ragionamenti che abbiamo provato a fare noi a sinistra nei movimenti sociali quando dicevamo attenzione questo virus è il prodotto di un sistema capitalista che negli anni nei secoli nei decenni ha fatto degradare dal punto di vista naturale e sociale questo mondo e quindi ecco il virus è il frutto di questa cosa mentre nella visione complottista c'è appunto il disegno complottista però è la zona d'ombra che è molto difficile da chiarire che a mio avviso è una delle cose più delicate ma anche più belle del tuo libro sì ma molto spesso qui è una grande una grande questione aperta qui ovviamente non ho dato una risposta nel libro perché nessuno ce l'ha ed è quella del confine tra diciamo così un'opinione diversa e una teoria del complotto comunque il confine tra realtà e teoria del complotto che molto spesso può essere labile ad esempio anche la parliamo della questione del virus dell'origine del virus al momento non è non si sa quale sia l'origine del virus cioè ci sono più prove che propendono che puntano allo spillover ma diversi scienziati anche autorevoli non escludono la fuga da laboratorio che è una cosa diversa però dal virus creato come arma bioingegnerizzata un po' la resident evil dai scienziati cattivi cinesi ecco questa è tutta un'altra cosa il compatismo si muove esattamente in quest'area grigia tra la plausibilità e la non falsificabilità nel senso che adesso non ci sono prove granitiche certe che fanno propendere per un'origine naturale o artificiale che poi comunque non sarebbe neanche artificiale neanche nel caso di una fuga in laboratorio comunque e chiaramente qua prosperano le teorie del complotto perché cercano e questa è proprio una loro caratteristica intrinseca strutturale cercano di o pretendono di dare una risposta e di mettere ordine nel caos e quindi in un certo senso c'è anche quel contrario di certe definizioni descrizioni che si fanno delle teorie del complotto come qualcosa di puramente irrazionale e di pensiero magico in realtà molto spesso sono un tentativo razionale di fare di venire a patti con una realtà sfuggente poi chiaramente arrivano almeno secondo me ma non solo arrivano a conclusioni totalmente sballate e queste teorie sono false soluzioni a problemi reali e qua mi ricollego appunto al grande reset che anche qui è anche questa è una teoria che nasce da una cosa assolutamente reale e verificabilissima che tra l'altro non c'è nessun segreto che è appunto questo documento che aveva fatto il World Economic Forum alla fine dei primi lockdown quindi diciamo primavera 2020 e poi una serie di lanci sono arrivati una serie di campagne promozionali sono arrivati ottobre 2020 comunque autunno 2020 in cui questa è l'iniziativa patinatissima che si chiamava appunto il grande reset, the great reset cioè un ripristino del capitalismo dopo il grande shock dei lockdown globali e chiaramente il WEF che appunto organizza il forum di Davos che è la fashion week per il neoliberismo sostanzialmente diceva, parlava di cose di cui si parlano un po' tutti cioè dalla transizione green insomma tutte queste cose qui che chiaramente sono tutte cose sfruttate dalle multinazionali e comunque dall'elite finanziaria che oggettivamente il WEF rappresenta e però appunto da questo documento è venuta fuori una teoria del complotto che si lega appunto la pianificazione della pandemia cioè la pandemia non sarebbe il risultato o il frutto di tantissimi fattori diversi che vanno dalla biologia fino alla virologia fino ad arrivare appunto alla questione di allevamenti intensivi ad esempio ma appunto sarebbe un piano preordinato da gruppo scuro di potere che poi tanto scuro non è visto che ha pure pubblicato il piano segreto ma a parte questo che appunto ha ingegnerizzato la pandemia per arrivare qui se arriva la falsa risposta al problema reale per arrivare all'instaurazione di un governo unico socialista il grande reset in questo senso è una bastardizzazione da destra del capitalismo e dei disastri perché innanzitutto imputa la capacità di agire nel senso è assurdo che il think tank per eccellenza nel liberismo voglia arrivare a un governo unico socialista e comunista questo è completamente escluso e tra l'altro poi il grande reset diciamo almeno la lettura portata avanti dall'estrema destra statunitense non solo non è altro che una riedizione della vecchissima teoria anticomunista e anche antisemita del nuovo ordine mondiale gira e rigira andiamo sempre a finire lì nessuna teoria del complotto è nuova e secondo me anche quello che ho cercato di fare nel libro è anche importante proprio andare a ricostruire l'albero genealogico delle teorie del complotto perché a prima vista una teoria come il grande reset potrebbe anche essere interessante a sinistra cioè ha un vago messaggio anticapitalista se vogliamo dietro o comunque anti elite finanziare che chiaramente hanno sono quelli che ve lo dicono tutti i dati hanno più guadagnato hanno più da guadagnare da una situazione di emergenza di crisi come quella pandemica ma se si va oltre questa cortina fumogena che poi è anche quello che ha fatto Nomi Klein in un bell'articolo su The Intercept su Grande Reset se si va un po' oltre, se si sgratta un po' sotto la superficie tornano sempre i soliti vecchi miti le solite vecchie cospirazioni globali che i vecchi super complotti che sono sempre la stessa narrazione usano sempre gli stessi argomenti da decenni e decenni alla fine in fondo c'è sempre la paura del comunismo, del socialismo e anche una bella dose di antisemitismo Continuiamo a parlare della fase pandemica a cui come tra l'altro il sottotitolo del libro suggerisce dedichi ampio spazio e il secondo capitolo io mi piace seguire l'ordine che hai dato tu al libro perché credo sia estremamente efficace poi nello spiegare che cosa sono i complotti e come agiscono nella nostra società quindi il secondo capitolo si addentra più nelle questioni politiche quindi come abbiamo detto ce lo spiegavi bene la pandemia è stata un grande laboratorio di complottismo ma poi il complottismo che storicamente quantomeno negli ultimi anni ha agito molto nella vita virtuale inizia a diventare invece qualcosa di reale lo iniziamo a vedere nelle piazze principalmente negli Stati Uniti e in Nord Europa ma anche in Italia e qua c'è l'anello di congiunzione tra quelli che sono stati i movimenti nazionalpopulisti più o meno dell'ultimo decennio con i vari novaccinisti con i vari comprottisti e questo è il quadro più o meno variegato che si delinea e io però su questo oltre a cercare di spiegarci meglio come poi c'è questo passaggio dalla vita virtuale alla vita reale alle piazze mi piacerebbe anche farti una domanda a tuo avviso quanto ha contato il fatto che a sinistra nei movimenti sociali non ci sia poi stata la capacità di avere un discorso pubblico politico e appunto di movimento che criticasse realmente la gestione sanitaria e sociale della pandemia su questa non so risponderti perché secondo me la critica c'è stata che facciamo un passo indietro quello che è successo negli ultimi due anni praticamente dall'inizio dei primi lockdown è che si sono formate diciamo che si è proprio avverata nella realtà quello che tra l'altro la mia collega americana di Vice definisce la cosiddetta singolarità complottista cioè nel senso che la pandemia ha accelerato talmente tanto le cose ha accelerato anche delle tendenze che già preesistevano alla pandemia stessa e hanno creato questo la chiama lei questo densissimo calderone questo densissimo melting pot in cui sono finite dentro tantissime cose diverse tra loro tra cui le tante comunità complottiste tante comunità politiche diverse tra loro tanti tante comunità anche spirituali molto cioè molto new age molte molta medicina alternativa molte tutte discipline molto eterogene tra loro le ha praticamente unite tutte sempre con differenza loro interno ma ha dato una visibilità e una presenza pubblica che prima non c'era in questo senso molte comunità hanno si sono alleate per portare avanti diciamo determinati determinati tipi di messaggi e questo è stato così almeno nella prima fase tant'è che diciamo in paesi mi viene l'esempio principale che mi viene in mente è quello tedesco in cui si è formato praticamente ad aprile 2020 maggio 2020 il più grosso quello che è ancora adesso il più grosso movimento anti restrizioni diciamolo così europeo che è Querdenken che appunto la traduzione è pensiero obliquo pensiero laterale e appunto dentro Querdenken c'era di tutto ma stiamo diffondendo un tipo di movimenti diciamo così che è anche un po' difficile chiamarli movimenti se vogliamo chiamare le mobilitazioni molto trasversali e secondo me un concetto efficace nel descrivere questo tipo di movimenti è che sono proprio partendo da Querdenken che sono laterali diagonali cioè praticamente tagliano in maniera trasversale obliquo un po' tutto lo spettro politico esistente cioè vanno da alcune parti dell'esterno a sinistra fino all'esterno a destra e in mezzo raccolgono un po' di tutto quello che è insomma è abbastanza visibile che è stato abbastanza visibile diciamo nell'evoluzione di questi movimenti è successo praticamente in tutti i paesi in cui ci sono state mobilitazioni anti-restrizione e che a un certo punto essendo mobilitazioni che senza un vero e poco ordinamento o comunque gestita da piccolissime associazioni che a un certo punto non hanno il potere di controllare alcunché a un certo punto queste mobilitazioni diventano estremamente suscettibili di essere indirezzate dall'una o dall'altra parte e quello che è successo però praticamente in tutti i paesi è che sono i gruppi di estrema destra di averlo fatto perché chiaramente erano più strutturati rispetto al manifestante medio che deriva a una determinata mobilitazione anti-restrizioni proprio per tornare anche all'inizio della nostra discussione anche all'inizio del libro prima dell'assalto al congresso degli Stati Uniti c'era stato l'antipasto in Germania nell'agosto del 2020 con il tentato assedio a Reichstag e lì c'è stata proprio una dinamica anche lì molto esemplificativa perché era una manifestazione nata appunto organizzata da Querdenken molto partecipata perché erano circa dalle 40.000 60.000 persone nel centro di Berlino e a un certo punto un gruppetto di qualche centinaia di persone tra cui molti estremisti di destra ma non solo si è staccato ed è arrivato alle porte letteralmente del Reichstag cioè del Parlamento tedesco ovviamente per un paese come la Germania in una scena del genere è sconvolgente perché persone con bestilli neonazisti sono di nuovo tornati da minacciare il Reichstag e però questo si è verificato in tanti altri paesi cioè c'è proprio quello che secondo me al di là di al di là della seconda parte della domanda che mi hai fatto c'è quello che appunto che cerco anche di spiegare nel libro ho cercato di spiegare nella newsletter che si sta proprio formando una sorta una è un movimento chiamato così trasnazionale e trasversale in cui c'è molta diciamo si copiano l'un l'altro nel senso che quello che succede in Germania non rimane in Germania ma magari si replica negli Stati Uniti o in altri paesi e ogni evento diciamo ogni giornalista americano l'ha definita dato una descrizione efficace ogni mini insurrezione pandemica diciamo che getta le premesse per un'altra magari anche a chilometri a migliaia di chilometri di distanza anche l'assedio alla CGL ha seguito esattamente lo stesso copione lo stesso modello di quello che è successo a Reichstag di quello che è successo a Melbourne di quello che è successo in Olanda in Belgio in tanti altri paesi cioè da queste manifestazioni queste appunto manifestazioni che formalmente sono contro le restrizioni o comunque contro una certa gestione della della risposta sanitaria nazionale si arriva a la taglio corta si arriva al tentativo di assaltare di assaltare i parlamenti nazionali anche in Bulgaria è successo c'è stato anche in Romania ovviamente sono tante ovviamente sono tutte situazioni diverse l'una dall'altra da un punto di vista nazionale ma c'è proprio un modello ormai trasnazionale che nessuno è in grado di gestire nemmeno chi appunto organizza o tenta di organizzare queste cose chiaramente non sono gestibili o almeno non sono state gestite dalla politica e dai governi nazionali se non ovviamente con la repressione ma diciamo che poi ha messo e non concesso che questi movimenti tramontino o vadano via con l'emergenza col finire dell'emergenza pandemica le persone che chiaramente hanno attraversato queste movimentazioni queste manifestazioni e che magari hanno anche cercato di assaltare i parlamenti e non sono tutti solo ed esclusivamente gli estremisti di destra rimarranno in giro cioè nel senso saranno avranno anche secondo me continueranno ad avere un peso anche nella vita politica e sociale di ogni paese però questo secondo me ancora non è una cosa su cui ancora nessuno sicuramente non in Italia ci ha fatto ancora i conti o c'è stata un'analisi seria una discussione collettiva pubblica al massimo appunto si si grida contro il Novavax di turno o l'antivaccinista di turno e si pensa appunto che siano delle cose marginali delle manifestazioni di quattro poveracci fuori di testa ma in realtà secondo me è qualcosa di molto più profondo e che ha anche delle implicazioni molto serie anche per le democrazie liberali o comunque per certi per moltanti paesi diversi cioè il fatto che anche a proprio livello europeo il fatto che movimenti di questo genere abbiano attecchito diciamo il più grosso movimento di questo genere che magari è un modello che fallirà cioè non lo so però è un modello che esiste e il fatto che sia nato comunque il movimento più numeroso e anche più radicato e più radicale sia nato in Germania secondo me è anche molto indicativo e ci apre una strada di analisi interessante per il futuro anche della politica europea se vogliamo cioè nel paese più potente e più grosso dell'Unione Europea è nata una cosa del genere che ha ovviamente delle radici locali nazionali ma i querdenken i pensatori laterali sono visti come un modello in tutta Europa beh sicuramente poi non so cosa debba fare la sinistra per non chiederlo a me questo ovviamente sarà uno è già uno dei temi di discussione però sicuramente in quello che dici in quello che scrivi su che cosa rimarrà io credo che c'è già da tempo un nuovo laboratorio non tanto di destra in termini classici ma probabilmente di un pensiero di una soggettività reazionaria che poi abbiamo visto esprimersi in questo contesto per le cose che dicevi bene però io continuo un po' sulla falsa riga del tuo libro c'è una cosa che mi ha colpito molto nel terzo capitolo ossia il fatto che questi nuovi fermenti fenomeni chiamiamoli così di destra tu ad esempio citi Breivik la strage in Norvegia ma anche i vari movimenti anti-immigrazionisti anti-gender abbiano poi un come dire un abbiano aperto una vera e propria crociata contro il marxismo culturale ossia un po' tutte quelle teorie che a loro dire vengono dalla scuola di Francoforte e che però questo secondo me è molto interessante si concentrano su alcune tematiche quella femminista quella antirazzista le varie lotte per i diritti civili per che cosa per una nuova affermazione del white power questo ad esempio è un tema che abbiamo toccato trasversalmente in altri dibattiti qua in questi due giorni però secondo te proprio in questa affermazione del white power possiamo scorgere delle leve di un nuovo conflitto anche in termini positivi non positivi rispetto a questi movimenti ma comunque un nuovo fermento che poi riesca a delineare effettivamente un nuovo asse di conflitto politico magari per l'affermazione di questi diritti secondo me l'immersione di queste teorie di complotto appunto le teorie contro il marxismo culturale che poi adesso è diventata la teoria contro la critical race theory o comunque anche contro più in generale contro il politicamente corretto contro la dittatura del politicamente corretto cioè secondo me segnalano che il conflitto è già in corso perché molto spesso chiaramente le teorie del complotto nascono in reazione a un qualcosa che minaccia lo status quo e minaccia la stabilità di una società di una certa struttura di potere e in questo senso appunto le teorie del complotto servono hanno una funzione difensiva di sistema cioè servono per difendere il sistema e non a caso appunto e poi hanno anche una funzione diciamo di preparare anche la violenza e poi arrivo appunto tu hai citato quella sul marxismo culturale ma non è un caso che insomma Breivik avesse dedicato tantissimi cioè una delle prime cose che ha detto mentre sparava ai giovani socialisti che aveva detto marxisti morirete tutti bastardi figli dell'elite una cosa di questo genere insomma non è un caso che ci sia proprio un filo che lega una certa difesa del sistema ad un attacco verso i percepiti verso i nemici percepiti che poi non sono neanche nemici reali sono proprio figure immaginarie che però poi le vittime sono assolutamente reali e un altro esempio in questo senso è la teoria della sostituzione etnica che appunto è una teoria del complotto chiaramente razzista secondo cui i flussi migratori sarebbero anche qui il piano preordito e preordinato da fantomatica elite per far arrivare tantissime persone migranti anacquare le identità nazionali e sostituire la popolazione autoctona europea e statunitense perché sono i comprati occidentali che ovviamente si intende essere bianca e cristiana e anche qui questa è una teoria che è partita veramente dai meandri più oscuri dell'estrema destra statunitense e francese e nell'arco di non troppi anni una decina è spondata completamente nel mainstream e poi è finita anche diciamo nei manifesti di altri stragisti che si ispiravano a Breivik e l'attentatore di Christchurch ha significativamente intitolato il suo manifesto la grande sostituzione e adesso siamo in una fase ulteriore e qua riprendo anche quello che avevo detto all'inizio di normalizzazione totale delle teorie del complotto perché abbiamo un candidato presidenziale un candidato alla presidenziale francese che è Eric Zemmour che è il più grosso propagandista della teoria dell'istituzione etnica anche in Italia ovviamente è stato usato da Salvini Meloni eccetera quindi chiaramente secondo me il conflitto è già in corso e le teorie del complotto sono per certi partiti politici per certi leader istituzionali sono delle vere e proprie armi da usare contro i nemici contro i loro nemici che poi saremmo noi sostanzialmente comunque contro i nemici della società chiunque voglia cambiare la società in un modo più inclusivo che non sia solo più mariano ecco per tagliare proprio con l'accetta andiamo verso le conclusioni e il tuo libro si conclude con l'ascesa di qui e non che come dire è una cosa su cui in Italia in realtà si sta scrivendo da relativamente poco e tutto sembra tornare il trampismo la capitoli la pandemia e tutto sembra tornare a me c'è una cosa che francamente mi ha inquietato che la cosiddetta operazione Lima poi lo spiegherà meglio Leonardo sostanzialmente parte dalla Francia orientale viene rapita una bambina dalla madre per una sorta di rieducazione sembra davvero una spy story ma è angosciante però dentro questo c'è un lieto fine o un possibile lieto fine non di questa storia no nel senso che l'ultima parte dentro questa macchina che sembra quasi perfetta però iniziano ad esserci delle crepe delle crepe oltre che individuali a mio avviso anche politiche culturali sociali io credo che sia poi questo che ci interessa ci interessa come giornalisti come movimenti sociali perché sostanzialmente c'è una questione che non riguarda solamente il debunking o il prebanking che sono sicuramente delle cose importanti ma probabilmente riguarda la costruzione o la ricostruzione di un pensiero critico realmente aggiornato che sia all'altezza della fase e poi riesca davvero a leggere per come sono la questione climatica la questione ecologica la questione della crisi finanziaria eccetera e anche la questione pandemica io credo che qua stia un po' il punto della faccenda e credo che il tuo libro si conclude bene per questo dicevo ha un lieto fine perché comunque dà una possibilità sì allora QAnon è la la teoria del complotto delle teorie del complotto cioè una teoria del complotto che ha inglobato qualsiasi cosa ha una nascita abbastanza ridicola molto spesso le teorie del complotto nascono in maniera ridicola cioè con un post su 4chan cioè questa image board tra l'altro ormai molto vecchia in termini di anni di internet cioè è nata nel 2003 che ha prodotto un sacco di sottoculture digitali da Anonymous all'altrite passando in mezzo per tantissime cose un po' la fabbrica dei meme o come si autodefiniva 4chan stesso qualche anno fa il buco del culo dell'internet qui finisce praticamente di tutto e nasce come l'ennesimo larper in gergo cioè l'ennesimo utente anonimo che fa finta di essere una talpa del governo anzi delle istituzioni americane che sostiene appunto che Hillary Clinton entro le prossime 24 ore sarebbe stata arrestata e portata a Guantanamo insieme ad altri elementi criminali come li chiamavano il post Q che è appunto l'utente anonimo e che ormai è una cosa fatta cioè era imminente l'arresto e poi sono passati 4 anni Hillary Clinton ancora non è finita a Guantanamo ancora non è stata arrestata quindi praticamente Guantanamo nasce come post cazzata su un forum su un image board nota per le cazzate e talalto nasce come profezia fallita e però nell'arco di veramente poco tempo nell'arco di 4 anni siamo passati dal post di Q su 4chan allo sciamano di di QAnon Jacob Jacob Chansley che entra appunto vestito da sciamano e si mette a pregare sullo scranno del vicepresidente degli Stati Uniti al Senato come è stato possibile beh perché QAnon praticamente ha intercettato tutto quello che si muoveva nel sottobosco della politica americana e non solo anche della società della religione è andato praticamente a toccare ogni ambito possibile e il fatto che l'abbia fatto una teoria di complotto secondo che appunto ha inglobato tutto ma diciamo che l'architrave narrativo di QAnon è che il governo degli Stati Uniti o comunque lo Stato profondo degli Stati Uniti sia gestito e comandato da una cricca di pedofili satanisti che sono tutti democratici e vanno da Hillary Clinton fino a Oprah Winfrey anche qui passando per qualsiasi altra cosa da questa appunto anche qui non c'è nulla di nuovo perché il proprio il panico il cosiddetto panico satanico negli Stati Uniti è una costante da da sempre ecco dalla loro fondazione cioè da Salem fino a fino a insomma la crociata degli anni del il panico satanico degli anni 80 90 del secolo scorso e poi insomma questa è la base di partenza appunto si è unito qualsiasi altra cosa nel frattempo dalle teorie sull'omicidio di Kennedy fino a al furto elettorale del 2020 e anche qui è molto difficile definire cosa sia che no perché alcuni l'hanno chiamato cioè teoria del complotto è riduttiva comunque perché magari è partita come la teoria del complotto ma non lo è più da parecchio tempo quindi è un po' un movimento politico o un gioco di ruolo alternativo una una simulazione un rompicapo un enigma una pseudo religione una iper religione cioè probabilmente tutte queste definizioni vanno bene perché che ho nonna al suo interno è molto diversificato è diviso in fazioni non è per niente granitico ma proprio il fatto che abbia una cosa che insomma pensandoci bene è una cosa assurda cioè che da un post si sia arrivato da un post su Forciano si sia arrivati all'assalto al congresso però è quello che è successo è capirlo è anche il modo di capire in che tempi siamo in che società viviamo e poi quello che ho appunto cercato di fare nel libro è una realtà appunto molto caotica molto complessa in cui nessuno sembra avere davvero il controllo e appunto le teorie del complotto pensano di dirci che è tutto a posto anzi che non è tutto a posto ma che possiamo fare qualcosa mentre in realtà molto spesso condannano all'impotenza più totale l'impotenza politica più totale e anche per questo che e qua chiudo quando ci sono mobilitazioni dal basso forti quando ci sono mobilitazioni dal basso collettive spesso e volentieri le teorie del complotto esauriscono la loro funzione e secondo me il caso più emblematico è quello della mobilitazione degli ultimi due anni sul clima sulla crisi climatica che ha praticamente fatto piazza pulita di tante teorie del complotto che avevano fatto perdere tantissime energie e tantissimo tempo proprio sulla crisi climatica quella che mi viene in mente più di tutti è la quella delle sce chimiche su cui si è stato perso un sacco di tempo tra l'altro non solo dagli utenti XY72 su Twitter o su Facebook ma ci sono state in Parlamento ci sono state nel Parlamento italiano sono state una ventina di interrogazioni parlamentari su questo tema tutto tempo sottratto tutto tempo prezioso energia preziosa sottratte a iniziare a parlare di cose serie cioè della crisi climatica quindi niente infatti mi piace molto come come concludi quando dici che alla fine la crisi che dobbiamo per noi è una cosa scontata però bisogna convincere che poi la crisi climatica sia il frutto di scelte politiche del capitalismo invasivo e non delle scelte chimiche la crisi finanziaria è il frutto di anche questo di scelte economiche non di di teorie complottiste e credo che sia questo un po' il messaggio non tanto di speranza ma di tentativo proviamo a ragionare insieme su come poi su queste cose su questi temi riusciamo davvero ad avere un approccio critico che sia all'altezza della fase io Leonardo ti ringrazio e credo che meriti davvero un applauso perché è stata è stata davvero bella abbiamo toccato tanti temi intanto il libro anche il precedente di Leonardo che è sulla sulla gente sull'oggentismo quindi sulla questione anche di un'idea un po' diversa di populismo che è a Leonardo li trovate al banchetto di Sherbox però io credo sia interessante adesso abbiamo mi dicono più o meno una decina di minuti più o meno dieci minuti possiamo concederli una decina di minuti per qualche battuta se ci sono domande magari le raccogliamo ok le raccogliamo vi chiederei l'unica cosa di venire in questo punto quello che divide le due casse per porla anche verso la telecamera e allora tu prima citavi le talk radio americane 4chan reddit che secondo me anche se c'è una talk radio veneta non ha un grosso peso in Italia però fra due giorni ci saranno ulteriori restrizioni a causa covid riusciresti a farmi un pronostico su cosa potrebbe succedere conoscendo e comunque vedendo cosa sta succedendo nel resto d'Europa sul su cosa potrebbero fare tutti i movimenti anti restrizione le raccogliamo o posso inizio le raccoglieremo le raccoglieremo ok buonasera lei ha parlato comunque dei movimenti cospirazionisti come un corpus molto eterogeneo di ideologie anche a livello politico la mia domanda è ok la mia domanda è che ruolo ha avuto e che ruolo ha tuttora la cultura new age nel generare l'humus la cultura new age nel generare l'humus dalla quale sgorgono alla fine questi tipi di movimenti cospirazionisti ok c'è un'altra questione direi ciao volevo chiederti se in questa ricerca che hai fatto prima hai citato un po' l'esempio americano poi l'esempio tedesco del mondo appunto di complottisti eccetera se in Italia vedi qualche specificità rispetto a questi altri esempi perché ad esempio abbiamo visto anche qua un corpus molto eterogeneo di negazionisti di complottisti eccetera la destra che si è intestata la manifestazione a Roma l'assalto a CGL i commercianti da un altro lato insomma c'è un po' anche qua di eterogeneicità non so se è una specificità italiana non vedo altre domande quindi ti lascio rispondere allora partendo dal pronostico però non faccio nessun pronostico non ho la palla di cristallo allora quello che quello che è successo cioè almeno ci sono almeno due macro tendenze allora in alcuni paesi ci sono delle grosse fiammate che poi si esauriscono lì tipo ad esempio in Olanda ci sono state delle rivolte violentissime partecipate non solo chiaramente da persone contro restrizioni sanitarie ma tante altre e poi più o meno è finita lì e questa è una tendenza grandi fiammate che poi si esauriscono subito l'altra invece di una almeno quella diciamo c'è una tendenza un po' più estrema cioè quella che porta alla radicalizzazione sempre più marcata e qui anche qui sono sono molto diverse le situazioni tra loro ad esempio una cosa che ultimamente sta succedendo nel Regno Unito poi non so ovviamente se si replicherà qua o o meno è che praticamente il movimento antirestrizioni antivaccinista si è fuso con le teorie americane del dei cittadini sovrani cioè gente convinta che non esista che gli stati non siano degli stati ma delle aziende private e quindi per cui non si debba sottostare alle leggi dello Stato è molto complicata la questione però sostanzialmente pensano che non esista uno Stato ecco si sono fuse e praticamente negli ultimi le ultime settimane stanno andando in giro in tutto il Regno Unito a dare delle notifiche delle pseudonotifiche giudiziarie a infermieri che fanno vaccini medici eccetera dicendo che stanno commettendo reati cose di questo genere non lo so se succederà anche in Italia è già successo una cosa del genere anni fa perché anche qui non sono teorie nuove ma si diciamo che si rimescolano e si agganciano all'attualità pandemica può essere così può essere di no cioè è difficile da capire è chiaro che diciamo che una stretta maggiore dello Stato chiaramente può corrispondere una reazione altrettanto forte da parte dei soggetti presi di mira ma questo vale in generale non solo per il movimento antivaccinista antirestrizioni poi e qua mi riaggancio anche alla domanda che hai fatto tu secondo me non c'è una vera non c'è una specificità italiana perché ma proprio in generale quasi tutte le teorie del complotto che circolano in Europa sono di derivazione americana o comunque sono e viceversa quelle che circolano negli Stati Uniti sono di derivazione europea ma poi diciamo si mescolano anche qua insieme e sono globali sostanzialmente tutte le teorie del complotto adesso sono trasnazionali certo ci sono delle declinazioni locali in cui magari cambia il nemico di turno che è il premier in Olanda magari è Mark Ruth da noi e Draghi quindi cambiano i nomi cambiano i protagonisti ma la storia è sempre lo stessa tant'è che appunto come dicevo prima la manifestazione quella dell'assalto alla CGL è una fotocopia quasi esatta di quello che era successo qualche settimana prima a Melbourne in cui era stato assaltato un sindacato la sede di un sindacato proprio per gli stessi motivi per la questione legata a Green Pass e altre cose già nemmeno è stata proprio la fotocopia quindi secondo me questo è un aspetto veramente interessante di adesso e che non è neanche secondo me abbastanza sottovalutato è proprio la dimensione transnazionale e genuinamente globale globalizzata del fenomeno poi ovviamente ci sono delle specificità locali ma è proprio un fenomeno globale e poi per finire per rispondere all'ultima domanda anche qui ha a che fare con appunto il fenomeno globale transnazionale che appunto che è quello della cosiddetta conspiritualità cioè questa fusione tra complottismo e spiritualità che specialmente con la pandemia ma anche prima era anche prima era già abbastanza marcata e visibile tant'è che appunto il termine conspiritualità nasce mi pare diciamo che è stato teorizzato per la prima volta nella forma moderna nel 2011 quindi è una cosa ben presente la pandemia ma anche qua è esplosa con la pandemia e anche qui abbiamo visto c'è proprio un fenomeno anche visibile su piazza perché molti lo stesso sciamano di che non rientra nella diciamo in una visione conspirituale della storia e della vita in generale quindi secondo me non solo secondo me hanno proprio il fenomeno della conspiritualità ha un peso specifico molto elevato all'interno del complottismo contemporaneo e tra l'altro è anche all'interno dell'antivaccinismo che non è non è necessariamente complottista per forza però chiaramente può anche sfociare in certe teore complottiste proprio l'aspetto della conspiritualità è proprio secondo me è anche uno dei più interessanti perché chiaramente anche qui va a intercettare un bisogno profondo cioè che è quello di non esiste solo la scienza nella vita ecco non esiste non sempre tutto deve essere per forza razionale quindi chiaramente delle teorie spirituali in un momento del genere come questo in una contingenza politica come questa possono fondersi con il complottismo politico e generare fenomeni a volte anche pericolosi cioè comunque che possono che sono pericolosi sia da un punto di vista individuale che anche collettivo perché nel corso di una pandemia appunto hanno un impatto anche sulla sanità pubblica ecco comunque come viene gestita una malattia epidemica virale ecco bene io ringrazio ancora Leonardo è stato abbiamo davvero chiuso in bellezza è stato un dibattito bello avvincente io invito ancora a chi non l'abbia ancora letto chi voglia leggerlo a comprare i due libri di Leonardo qua quindi ti ringrazio ancora e do alcune comunicazioni perché tra pochissimo inizierà un live della band Fuori dai denti con un concerto con disegno dal vivo di Elena Sofia questo era l'ultimo dibattito abbiamo chiuso in bellezza ma purtroppo abbiamo chiuso è stata una due giorni veramente bellissima intensa io mi permetto semplicemente di ringraziare chi innanzitutto il centro sociale Pedro che ha ospitato questa che ha ospitato questo evento come tra l'altro continuerà a fare altri eventi venerdì prossimo abbiamo la presentazione di due libri che riguardano della situazione di Abbassa su sull'America Latina sullo zapatismo sulle comunità indigene quindi venerdì prossimo alle ore 20 continuano le iniziative culturali al centro sociale Pedro ringrazio tutta la parte tecnica di Radio Sharewood di Global Project ringrazio Sharebooks perché è stato veramente una cosa meravigliosa io credo che davvero ci si riempie la bocca con la questione dell'indipendenza culturale credo che questi giorni abbiano dimostrato concretamente e praticamente come si fa indipendenza culturale in questo paese grazie a tutti e tutte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti